Storie, personaggi e curiosità, tutto questo è Stessa Spiaggia, il nuovo format estivo Targato TV6 In provincia di Terramo, sul lungomare di Roseto degli Abruzzi, nella trasmissione Stessa Spiaggia, facciamo l'incontro con Luca Di Donato, giovanissimo titolare dello stabilimento La Rosa Deventi Grazie Luca di aver accettato il nostro invito innanzitutto Grazie a voi Ecco, ne ho 18 anni, è appena finito la maturità, però prima di arrivare a questo vogliamo raccontare la storia di questo Lido Assolutamente, allora il nostro Lido inizia nel 2005, quando mio padre lo ha acquistato Dato subito in gestione a mio zio Paolo, fino al 2013, dove poi è passato gli altri miei due zii, Franco e Vittorio Fino all'anno scorso, quando insieme a mio padre di Comune Accordo abbiamo deciso di cimentarci insieme, perché fondamentalmente c'è anche lui insieme a me Nella gestione del Lido, rinnovandolo completamente sia in colori che in struttura E affidandomi a me appunto l'incarico di coordinare il tutto Ecco, come mai questa scelta? Tu hai appena finito la scuola superiore, no? E quindi hai fatto questa scelta importante di metterti subito nel mondo del lavoro Una scelta difficile, perché lo stabilimento di solito è un luogo di divertimento, dove tutti i ragazzi si divertono della tua età, invece tu devi lavorare Ecco, perché questa scelta? Allora, innanzitutto perché all'inizio mio padre, stanchi i miei due zii, Vittorio e Franco, voleva darlo in gestione a una terza parte Una terza persona, quindi extra familiare E poi però parlando è uscito fuori che avevo questo volere di prenderlo E però gli avevo detto, faccio l'università, o comunque avvio l'università, quindi il percorso universitario tra i quattro anni E poi vedo se riesco anche io a prendermelo a carico Allora lui l'ha buttata giù e ha detto, perché non provare direttamente noi? Fin dell'anno prossimo a prendercelo a carico nel mio aiuto In qualche modo tu sai organizzare e di conseguenza mi ha detto, provaci, in qualche modo riusciamo E come sta andando? Secondo me è bene, è una stagione che comunque è partita abbastanza col botto, tra virgolette, perché c'è molta gente Stiamo lavorando di più rispetto agli altri anni, è una mole di lavoro anche più importante E ora in questo momento c'è il ricambio tra fine giugno con le persone che ripartono Inizio luglio che incominciano a venire i turisti, specialmente quelli fuori dalla nazione E niente, quindi ora ci aspettano i due mesi più importanti e vedremo se saremo messi alla prova Quali sono i servizi che offrite, soprattutto all'interno della vostra spiaggia, del vostro stabilimento? Allora, quest'anno abbiamo rinnovato, abbiamo fatto la cucina, di conseguenza si offriamo ristorazione A pranzo specialmente, per quanto riguarda la sera aperitivi, comunque qualcosa in ambito molto soft Invece per quanto riguarda la spiaggia offriamo gli ombrelloni Abbiamo deciso di innovarci, anziché utilizzando le gazebo Strutture nuove a Roseto che si sono viste poco Ho cercato delle aziende in tutta Italia, anche tramite la fiera di Rimini La importante fiera dei balneatori Mi sono informato dove poter acquistare questi gazebo E allora li ho presi, ne abbiamo nove in questo momento Accompagnati da tre palme perché c'è sempre chi vuole rispettare la tradizione Tra virgolette Le assomigliano un po' a dei privè Sì, sono piccoli privè, sono gazebo di 3 metri per 3 metri E hanno una parete in pvc che appunto offre privacy E una cassa panca di un metro che offre uno spazio per raccogliere giochi, attrezzatura Della persona che è anche chiusa con un lucchetto e personalizzabile Infatti il lucchetto a combinazione che solo il cliente sa Abbiamo appunto lo spazio per i più piccoli dietro di me E alla mia sinistra invece abbiamo tre campi Due da beach tennis fissi e uno da polivalente Sia da pallavolo che da beach tennis Che appunto vengono utilizzati specialmente nei weekend Da adulti e ragazzi per giocare e appunto divertirsi Invece per quanto riguarda poi lo stabilimento Abbiamo visto servite degli aperitivi Avete anche i piccoli snack Come avete suddiviso l'angolo proprio bar? Allora innanzitutto partendo dal fatto che il bar è stato rifatto anche quest'anno Di conseguenza è stata un po' una sfida capire sia la mole di lavoro a cui andavamo incontro Perché essendo un nuovo locale più grande e ampliato non sapevamo in realtà fino a dove potevamo spingerci E abbiamo suddiviso il locale più che altro il bar in tre parti La zona colazioni con la vetrinetta che è quella che è sulla strada Poi abbiamo la zona classica con un lavandino eccetera E poi abbiamo la zona dei cocktail quindi utilizzata principalmente il pomeriggio e la sera E offriamo per lo più comunque colazioni salate, colazioni dolci, aperitivi anche a base di sia carne che pesce Frutta fresca e anche con yogurt Io ti faccio un grande in bocca al lupo perché sicuramente per la dialettica riuscirai a fare una carriera grandissima Sotto forma di balneatore o comunque di imprenditore del settore balneare Per una domanda te la devo fare Come mai non hai fatto il calciatore o comunque non ti piace il calcio o ti piace il calcio? Visto che tuo padre ha fatto una carriera importante sotto questo punto di vista È stata una domanda che mi sono sentito dire moltissime volte Allora inizialmente io in realtà dico non ho mai trovato una grande passione nel calcio Fin da quando sono piccolo, vuoi perché ce l'avevo in casa? Non lo so Però ho provato, ho provato a fare calcio però ho mai piaciuto, mi sono sempre andato sul nuoto Io girando comunque città con mio padre ho sempre tenuto il mio stile, ho sempre seguito il nuoto E poi niente, poi alla fine mi hai riportato al mare ovviamente E allora in bocca al lupo perché sicuramente avrai trovato una carriera importante Grazie Piacevole incontro alla Rosa dei Venti e qui al Roseto degli Abruzzi sul lungomare Con noi Daniele Croce è un personaggio del calcio abruzzese Intanto grazie che ci hai atteso e potrai raccontare agli ospiti Intanto che cosa si prova ad essere abruzzese e vivere queste spiagge, questi bei lì, questi bei stabilimenti Ciao, io che sono nato qui a Roseto per me è casa quindi siamo abituati da quando eravamo piccoli a svegliarci la mattina con la voglia di andare subito in spiaggia Abbiamo la fortuna di avere un mare molto accogliente con spiagge grandi dove poterle vivere attivamente Quindi noi siamo cresciuti giocando in spiaggia dalla mattina alla sera E quindi ora anche se adesso non ho più l'età dei ragazzini che giocano di continuo Però è sempre un piacere quando arriva l'estate e non vedo l'ora di tornare per godermi queste spiagge Ecco qui a Roseto degli Abruzzi e soprattutto alla Rosa dei Venti ti lega l'amicizia con Daniele Di Donato che è il papà di Luca Con lui condividi anche la passione, la professione del calcio Ecco, come hai trovato questo stabilimento che lui da anni ha però per il primo anno ha gestito insieme al figlio? Ah sì, con Daniele ci conosciamo da una vita Abbiamo anche giocato insieme per un paio d'anni Quindi diciamo che lì l'amicizia si è fortificata ed è andata avanti Poi nel corso degli anni anche se non ci siamo visti più tanto per forza di cose Ora Daniele è qui, ha ripreso un po' in mano la situazione È sempre stato un lido molto accogliente, è bello da vivere Ora che ci è tornato lui con l'aiuto della famiglia, di Luca che è diventato ormai un uomo Si vede che le cose sono anche migliorate ma comunque sia Io ti posso dire che sono sempre stato bene Allora ringrazio Daniele Croci, grazie per aver raccontato un po' quello che è il tuo punto di vista sui stabilimenti abruzzesi In bocca al lupo per il tuo futuro professionale Crepe il lupo, grazie a voi, buona giornata La trasmissione stessa a spiaggia ci porta a scoprire il porto turistico Marina di Pescara E lo facciamo insieme al direttore del porto Bruno Santori Che intanto saluto e ringrazio Direttore, un porto importante, il porto più grande della regione Abruzzo Il porto turistico che dà la possibilità a migliaia di turisti di affrodare e poi visitare le bellezze della nostra regione Si, dice bene I porti turistici, non solo il nostro qui di Pescara ma in generale in tutto il territorio nazionale che ne è disseminato Sono delle vere e proprie porte per il territorio Sono delle infrastrutture per una mobilità diversa rispetto a quella dei grandi mezzi di comunicazione Ma che hanno la stessa capacità di penetrazione del territorio e soprattutto portano a visitare le nostre bellezze A persone che hanno una particolare predisposizione ad apprezzare soprattutto patrimoni storici, artistici, culturali e ambientali Come quelli di cui l'Abruzzo può freggiarsi Ecco, un porto, dicevamo, importante, uno dei più grandi della regione Abruzzo Che negli anni è cresciuto continuamente Ecco, a quanta grandezza è arrivato il porto di Pescara e quante barche contiene adesso? Questo è un porto nato alla fine degli anni Ottanta, a metà fine degli anni Ottanta Già con questa dimensione come bacino acqueo E' uno dei porti in Italia con gli specchi acquei più ampi come spazi di manovra E quindi anche per la sicurezza delle imbarcazioni Nel corso degli anni con vari lavori si è portata la capacità di questa struttura a mille posti in barca Che soprattutto durante il periodo estivo sono quasi completamente occupati Il porto per sua definizione è un punto di approdo Che serve poi a muoversi e utilizzare la struttura portuale come punto di partenza Per svolgere le attività al di fuori del porto Non dimentichiamo che noi siamo praticamente al centro della città Quindi mettiamo a disposizione di tutti i nostri utenti, visitatori La gamma ampissima di servizi e di svaghi, di opportunità che offre la città di Pescara Da qui in posizione baricentrica rispetto al resto della regione Si può partire per escursioni che in poche decine di minuti ci portano alle vette della Maiella del Gran Sasso O sui bellissimi litorali del Terramano o della Costa Chietina All'interno del porto c'è una grandissima offerta di servizi Abbiamo una piazzetta commerciale molto vivace con diverse attività di ristorazione E ci sono anche strutture e impianti sportivi all'interno del porto che funzionano tutto l'anno Inoltre siamo caratterizzati dalla presenza di un polo fioristico importante Che grazie alle attività promozionali della Camera di Commercio Chieti Pescara Fa vivere questa struttura anche in quelli che non sono propriamente i mesi di alta stagione È possibile venire al porto e farsi accompagnare per le gite a distanza Ci sono delle attività dedicate a questo tipo di escursioni Degli operatori professionali che utilizzando determinate tipologie di imbarcazioni Mettono a disposizione le stesse per visitare i punti più prossimi della nostra costa O anche con escursioni di più giorni alle isole Tremito e addirittura in Croazia Questo è sicuramente possibile E all'interno del porto a livello di servizi Ovviamente quelli dedicati alla nautica sono quelli che hanno la voce in capitolo più importante Noi abbiamo grossi progetti per questo porto Perché nonostante sia un porto con ormai più di 30 anni di attività E' importante non fermarsi mai e progettare sempre sviluppi e nuovi servizi Sono previsti importanti investimenti dal punto di vista impiantistico Per rendere questo porto sempre più sostenibile dal punto di vista dei consumi energetici E del minore impatto sulle risorse ambientali e naturalistiche Vogliamo far sì che la bandiera blu che sventola ininterrottamente da più di 30 anni su questo porto Ogni anno abbia un motivo in più per sventolare con nuove acquisizioni E nuovi investimenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale Grazie mille, noi la ringraziamo per averci dato questo bilancio del porto turistico Delle vostre attività e del vostro futuro In bocca al lupo per tutti Grazie a voi Il porto turistico Marina di Pescara non è solo approdo per le barche Ma è anche un approdo per i tanti turisti E tante persone che vivono la vita della regione Abruzzo di Pescara E siamo in compagnia del presidente del Marina di Pescara Carmine Saci Nel vostro padiglione del Marina di Pescara Da sempre e in questi anni in modo particolare ospitate sempre più manifestazioni di rilievo anche nazionale Sì, ormai da diversi anni abbiamo affermato un marchio che si chiama Estatica Che sviluppa una serie di eventi che sono al servizio appunto dei turisti e non solo dei pescaresi Che gravitano intorno a quest'area Abbiamo la fortuna di avere questo gioiello dentro la città E quindi lo utilizziamo anche per avere uno spazio da vivere l'estate Questa estate tra l'altro è un'estate particolare Ancora più dell'estate dell'anno scorso E quindi abbiamo messo in piedi un cartellone importante Perché le aspettative sono tante Lo abbiamo messo in piedi anche naturalmente rispettando le normative Covid sul distanziamento Perché non possiamo prescindere da questo Abbiamo iniziato la stagione il 19 giugno E quindi finiremo la stagione alla metà di settembre Con due manifestazioni che sono manifestazioni fielistiche Che si chiamano Fermenti e Mediterranea Le manifestazioni, tutto il cartellone è stato organizzato insieme alla Camera di Commercio E ancora una volta quest'anno abbiamo fatto una buona alleanza Con le manifestazioni pescaresi Infatti nel nostro padiglione verranno ospitate Già sono state ospitate e saranno ospitate ancora Le serate del Pescara Jazz Abbiamo ospitato delle serate di funambolica E quindi adesso continuiamo ad ospitare Manifestazioni direttamente organizzate da noi E manifestazioni organizzate attraverso la collaborazione con l'ente manifestante Ecco, il Marina di Pescara che punta Allora anche e vuole fare da traino Proprio per il rilancio turistico post pandemia Della città stessa di Pescara Ma a catena poi si porta dietro tutto l'Abruzzo Perché possiamo vedere grazie anche alla telecamera di Gaeta Notario Che da questa veduta del Marina di Pescara Possiamo vedere il Gran Sasso Possiamo vedere la Maiella Riusciamo a vedere tutto il nostro Abruzzo Quindi il Marina di Pescara è proprio il traino del turismo abruzzese Siamo proprio fortunati perché abbiamo Come dicevo prima Una struttura importante In un collocata strategicamente per la nostra regione E non solo per la nostra regione Tant'è che le nostre manifestazioni sono frequentate anche Da turisti e da spettatori che vengono da fuori regione E che vedono su questa dorsale adriatica La possibilità di arrivare agevolmente al Marina di Pescara Tra l'altro siamo proprio all'uscita dell'asse attrezzato Che entra quasi direttamente nel porto Quindi che cosa vogliamo di più? Noi dobbiamo metterci semplicemente a disposizione E dobbiamo cercare di organizzare al meglio Quello che la natura ci ha messo a disposizione Questo è il nostro obiettivo Sono diversi anni che ci lavoriamo Tra l'altro abbiamo un porto green Abbiamo il porto che è bandiera blu da oltre 30 anni E quindi cerchiamo di coniugare la strategia complessiva Affinché questo Marina di Pescara Venga considerato come un attrattore Per chiudere ha parlato di bandiera blu Pescara può freggiarsi quest'anno anche della bandiera blu E questo può far piacere allo stesso Marina di Pescara Anche per il futuro Certo, come ho detto altre volte Noi siamo diventati la bandiera blu nella bandiera blu Perché adesso con il fatto che il comune di Pescara è divenuta bandiera blu Ci sentiamo meno soli E probabilmente riusciremo anche qui A massimizzare la sinergia complessiva Anche sulle tematiche ambientali E sull'attrazione non solo del porto turistico Ma dell'intera città di Pescara Grazie a tutti Grazie a tutti